Ripresa sì, ma molto debole e con persistenti rischi al ribasso. E questa la sintesi delle previsioni sul PIL italiano diffuse ieri da Banca Italia. Più 0,7% nel 2014 e più 1% nel 2015. Numeri che stridono con quelli più ottimistici, li vedete, previsti dal governo nel documento di economia e finanza. Al di là delle dissonanze, quello che preoccupa è che il nostro PIL continuerà ad andare a due velocità. Da una parte l'export che ci permetterà di rimanere in linea di galleggiamento, dall'altra il mercato interno. La persistente crisi dei consumi, infatti, significa anche che le imprese che per quel mercato producono sono destinate a conoscere ancora gravi difficoltà. Si tratta, secondo Banca Italia, di piccole e medie aziende presenti in particolare nel sud Italia, epicentro di una crisi che comunque siamo ben lontani da aver superato, come dimostrano i numeri drammatici sull'occupazione, che non trarrà benefici dalla ripresa se non a partire dal 2016. Quest'anno e l'anno prossimo, infatti, il tasso di disoccupazione salirà rispettivamente al 12,8% e al 12,9%, ripresa senza lavoro, quindi. Dati credibili, secondo il commissario europeo agli affari economici e monetari OlliREN, che ieri ha pranzato a Roma con il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. A febbraio, la Commissione pubblicherà le sue previsioni economiche sull'Europa che, secondo REN, potrebbero essere riviste in meglio. Ma il piatto principale del menù erano, naturalmente, i nostri conti pubblici, sui quali il finlandese ha mostrato un certo ottimismo, dicendosi fiducioso nel fatto che l'Italia rispetterà i propri impegni e affermando che, se si andrà avanti sulla strada delle privatizzazioni e della spending review, potrebbe essere sbloccata quella clausola degli investimenti fuori patto di stabilità per il momento subiudice. Chissà che questo ottimismo non sia legato anche alla riforma dei metodi di calcolo del PIL in Europa, che annoveranno tra gli investimenti le spese in ricerca e sviluppo e in armamenti. Il prossimo ottobre dovrebbe apportare un beneficio di 1-2 punti percentuali alla ricchezza nazionale, con conseguente effetto lenitivo su debito e deficit. Di questo, però, nel faccia a faccia Saccomanni-REN non si sarebbe parlato e, anzi, fonti governative predicano la massima prudenza.